Ciao a tutti, mi chiamo Sara Giacomini, sono un'ex studentessa dell'Università di Trento e sono stata uno dei primi studenti a essere selezionati per il Transnational Law Program e quindi per andare a studiare presso la Washington University in St. Louis, Missouri, USA. È stata un'esperienza bellissima, il mio soggiorno presso la Washington University, oltre che offrirmi l'opportunità di conseguire un LLM, mi ha insegnato tantissimo e mi ha cambiata moltissimo sia dal punto di vista accademico e professionale che personale. Studiare un diverso sistema giuridico dall'interno è stata infatti un'esperienza molto entusiasmante che mi ha aperto tantissime prospettive anche per quello che riguarda il mio sistema giuridico d'origine. Al momento io ho conseguito il titolo di avvocato sia in Italia che nello stato di New York e pratico la professione a Trento. Sto anche conseguendo un dottorato in diritto privato comparato. Ai ragazzi a cui può interessare questa esperienza io consiglio assolutamente, se ne hanno la possibilità, di provare perché per me è stata una delle esperienze più belle e più significative della mia vita e sono sicura che anche per loro sarà un'opportunità fantastica. Grazie a tutti.